ciao a tutti benvenuti in questo tempo di quaresima oggi celebriamo nella chiesa questo mercoledì delle ceneri la parola che proclameremo adesso è la parola della messa di oggi dove si impongono le ceneri bene il vangelo è tratto da matteo capitolo 6 versetti dall 1 al 6 e dal 18 dal 16 al 18 ripeto matteo 6 dall 1 al 6 punto dal 16 al 18 ok parleremo oggi sulla limosina sulla preghiera e sul digiuno quindi chiediamo al signore lo spirito santo per per entrare in questo tempo per entrare con questa parola in questo tempo nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amén dal vangelo secondo matteo in quel tempo gesù disse ai suoi discepoli state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il padre vostro che è nei cieli dunque quando fai le limosina non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nella sinagoga e nelle strade per essere lodati dalla gente in verità io vi dico hanno già ricevuto la loro ricompensa invece mentre tu fai le limosina non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra perché la tua e limosina resti nel segreto e il tuo padre che vede nel segreto ti ricompenserà e quando pregate non siate simili agli ipocriti che nelle sinago che negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente in verità io vi dico hanno già ricevuto la loro ricompensa invece quando tu preghi entra nella tua camera chiude la porta e prega il padre tuo che è nel segreto e il padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà e quando digiunate non diventate malinconici come gli ipocriti che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano in verità io vi dico hanno già ricevuto la loro ricompensa invece quando tu digiuni profumati la testa e lavati il volto perché la gente non veda che tu digiuni ma solo il padre tuo che è nel segreto il padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà parola del signore lo da te o cristo bene io vorrei leggere delle cose che normalmente noi non ci accorgiamo durante la liturgia delle ceneri durante la liturgia del mercoledì delle ceneri prima cosa la preghiera coletta che ci invita a entrare proprio in questo tempo dirà o dio nostro padre si parla del padre che vede nel segreto nella nella parola di oggi o dio nostro padre concedi al popolo cristiano di iniziare con questo digiuno un cammino di vera conversione quindi il senso del digiuno della preghiera delle limosina è sempre la conversione non sono cose che si fanno perché se devono fare basta no e per la nostra conversione quindi questo sguardo lo dobbiamo tenere durante tutta questa quaresima allora dice per affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza queste sono armi e limosina digiuno e preghiera il combattimento per affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male cioè si sottolinea in questo tempo anche questo combattimento cioè la vita cristiana è un combattimento non possiamo vivere la nostra vita cristiana così come se niente fosse questo tempo un tempo forte e viene a sottolineare questa cosa allora un'altra cosa che vorrei sottolineare vorrei condividere con voi è proprio le parole della benedizione delle ceneri non ci accorgiamo mai perché noi andiamo a messa riceviamo le cenere basta ma le parole che si pronunciano durante questo rito sono veramente importanti allora vi lego c'è prima l'invito del presbitero che dirà fratelli e sorelle supplichiamo dio padre perché con l'abbondanza della sua grazia benedica queste ceneri quindi non è semplicemente sono vengono benedette queste ceneri che poniamo sul nostro capo in segno di penitenza cioè le ceneri indicano la penitenza che vuol dire la penitenza appunto il tempo di conversione questo tempo che dobbiamo vivere con queste armi dobbiamo combattere poi dirà il presbitero proprio nella benedizione delle ceneri o dio che hai pietà di chi si pente e doni la tua pace a chi si converte ascolta con paterna bontà le preghiere del tuo popolo e benedici in quel momento si benedicolano le ceneri questi tuoi figli che riceveranno l'austero simbolo delle ceneri perché attraverso l'itinerario spirituale della quaresima giungano completamente rinnovati a celebrare la pasqua del tuo figlio il motivo della quaresima è celebrare la pasqua quindi entriamo in questo tempo pensando alla solenne veglia pasquale lo possiamo vivere così perché perché cristo ha vinto la morte e facciamo la quaresima proprio per vivere tutto il mistero pasquale in questo tempo di deserto questo tempo in cui il signore ci aiuterà attraverso lo spirito santo per combattere ripeto per combattere con queste armi quindi il vangelo di oggi ci aiuta a illuminare questi segni si parla appunto delle limosina e che cosa combatte a che cosa ci aiuta a prima di tutto contro l'ipocresia però poi la limosina ci aiuta a combattere contro l'avarizia ogni tipo di avarizia nella nostra vita ogni tipo di invidia ecco perché è importante avere questo presente quando si fa la limosina durante questo tempo è in tutta la vita cristiana contro l'avarizia pregare e contro l'acidia la superbia l'ira tutto quello che ci allontana questo dialogo con il signore deve essere un dialogo non nell'ipocresia non nella falsità se non nell'autenticità nella verità che è che cristo ci ama veramente e poi la terza cosa il digiunare guardate che combatte la gola tutti i piaceri che ci allontanano dalla grazia di dio la lussuria tutto questo il digiuno non è una cosa che usano oggi per dimagrire semplicemente attenti no è una pratica quaresimale una è una pratica penitenziale che ci aiuta a purificare la nostra anima ci aiuta a pensare alle cose di lassù e lasciar perdere le cose di quaggiù nel senso che le cose che ci allontanano dalla fede vi auguro a tutti una bellissima un bellissimo tempo di quaresima attenti con quelli che se lamentano in questo periodo no è un tempo di di combattimento un tempo di di veramente mettere alla prova la nostra fede attraverso questi simboli attraverso queste arme che il signore ci dona iniziamo questo tempo con le ceneri iniziamo questo tempo di conversione chiediamo al signore sempre lo spirito santo lui ci benedica nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen non dimenticarti di unirte a questo canale di evangelizzazione lasciaci un like mi piace iscrivete al nostro canale e attiva le notifiche che così non ti perdi nulla vi invito anche a lasciare le vostre preghiere le vostre intenzioni per questo tempo di quaresima lasciate qui sotto nella zona dei commenti le vostre preghiere le vostre intenzioni per queste per questo tempo di quaresima e poi puoi condividere anche il link di questo video bene ci vedremo in questi giorni facendo diverse cose appunto per accompagnarci durante questo tempo di quaresima un abbraccio